Sarà un ritorno di fiamma e breve, ma intenso. Maria De Filippi sarà ospite di tale e quale show nella prima puntata del torneo, che andrà in onda venerdì 17 novembre, su Rai 1. Dopo il confronto a distanza dello scorso sabato tra i due, la conduttrice di Tussicu e Vales e Carlo Conti saranno nuovamente insieme in un programma televisivo, stavolta solo per una sera. Nuovamente perché il riferimento è, per forza di cose, all'avventura di Sanremo 2017 che ha visto la regina di Mediaset e la colonna Rai insieme, eccezionalmente, alla conduzione della fortunatissima terza edizione del Festival della Canzone Italiana curato da Carlo Conti. Chiaro che il rimando costante sarà proprio a quella settimana in cui la Rai decise di rompere uno storico tabù, proponendo l'inedito binomio sul palco dell'Ariston e sdoganando definitivamente un'idea che da tempo si ipotizzava e che molti ritenevano infattibili. La De Filippi sul palco dell'Ariston. L'annuncio della partecipazione della De Filippi a Tale e Quale Show era arrivata proprio per bocca di Conti, sul finire dell'ultima puntata dell'edizione 2017 di Tale e Quale Show. Poco prima di annunciare la vittoria di Marco Carta, Conti dava appuntamento alla settimana prossima, quando sul palco della popolare trasmissione sei concorrenti di questa edizione e altri sei dell'edizione precedente si troveranno a sfidarsi per altre tre puntate. Alla prima puntata del torneo, venerdì prossimo, ci sarà una certa Maria E. Tale e Quale Show si appresta ad accogliere Maria De Filippi come quarta giurata, al fiando di Loretta Goggi, Cristian De Sica ed Enrico Montesano. Per il programma di Carlo Conti sarà indubbiamente un'iniezione importante di vitalità, che permetterà alla trasmissione di proseguire nella striscia positiva di risultati di ascolti che ha contraddistinto anche questa edizione e che fa del programma uno dei più popolari del piccolo schermo italiano. Chi se ne frega!